Serata speciale dopo domani, venerdì 28 maggio, per Daniel Zampieri. Il campione in carica della Formula 3 italiana e alfiere doc del Ferrari Driver Academy saluterà amici, parenti e soprattutto sponsor, attuali e futuri, in un cocktail di gala organizzato allo Sheraton Golf Parco de' Medici a Roma, prima di re-immergersi, anima e corpo, nella preparazione psicofisica in vista del quarto round stagionale della World Series 3.5, in programma la prossima settimana sul circuito di Brno, in Repubblica Ceca. Un evento da non perdere a cui prenderanno parte tutti i più grandi imprenditori, VIP e personaggi dello sport e dello spettacolo della capitale non. Qualche nome? Luca Baldesserri, responsabile Ferrari Driver Academy, Giancarlo Minardi, talent scout di fama internazionale e figura di spicco federale, Chiara Giallonardo, ex partecipante a Miss Italia 1996, attrice e presentatrice televisiva anche della Domenica Sportiva, e tanti altri VIP, quali probabilmente Giancarlo Fisichella, che faranno da sicuro traino alla serata. Insomma, un evento doc dove sarà possibile ripercorrere la storia del pilota romano, sempre più coccolato dalla sua gente in previsione di quel grande sogno chiamato Formula 1, col supporto di Showreel e speciali televisivi curati proprio dal centro di produzione TV di Stop & Go, che gestirà ovviamente la parte tecnico-televisiva col suo intero staff.